I vostri mariti non hanno più scuse. Una cena al lume di candela, una rosa rossa ed una canzone d'amore. Ai vostri bambini ci penso io. Parola del sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara che ieri sera in occasione della festa degli innamorati si è trasformato in animatore per tenere compagnia i bambini delle coppie che hanno deciso di trascorrere la serata da soli. Un'iniziativa singolare organizzata nel palazzetto dello sport di Sant'Antonio che ha avvalicato i confini picentini. L'obiettivo mio è quello di lavorare per dare delle risposte ai cittadini di Ponte Cagnano Faiano. Sono contento che le famiglie, le attività commerciali e soprattutto i bambini abbiano risposto con grande entusiasmo a questa nostra proposta che sarà solo l'inizio di tante attività dove i bambini e i ragazzi saranno messi al centro di tutto. L'idea è quella di far conoscere questa città che è bellissima fatta di tante attività commerciali importanti dove ci sono ristoranti e pizzerie di eccellenza a livello nazionale e quindi se riusciamo anche grazie a questo tipo di iniziative a coinvolgere persone che possono venire anche da fuori quindi fuori da Ponte Cagnano Faiano per lasciare qui i bambini fare a quali faremo fare una serie di attività molto belle molto interessanti e far sì che loro possano anche trascorrere qualche ora di relax e di pace magari gustando dei prodotti di eccellenza. Questo penso che sia un risultato importante.